giardiniere la domanda di oggi è questa quello che mi piacerebbe sapere quello su cui mi logoro quotidianamente è chi ha rubato chi ha rubato i sogni dei giardinieri italiani punto interrogativo questo video e sarà veramente ti consiglio di guardarlo fino alla fine che so che tu e fretta ma guardalo fino alla fine ciao fabio scavolini guardalo fino alla fine questo video giardiniere perché capirai tante cose che a mia volta diciamo mi hanno illuminato che io l'ho studiate su dei libri lo studiate su dei corsi e quindi ora te le riporto però questa diretta è veramente fondamentale perché la domanda è giardiniere chi ti ha rubato i sogni che tutto il giorno che parlo e quindi dopo il primo minuto di diretta già non ho più la voce buonasera a tutti collegatevi per questa interessantissima diretta mettete like per favore se la vedrete sul canale youtube iscrivetevi al canale perché anche le altre dirette sono ugualmente interessanti ma questa forse è una delle più importanti chi ha rubato i sogni dei giardinieri italiani allora viviamo in un paese maledetto che si chiama italia dove c'è un'impostazione mentale che in gergo tecnico viene definita nell'ambito del marketing ok con una parola stra abusata direi una parola stuprata viene definita mindset ok il mindset o il settaggio mentale o la mentalità dell'italiano riguardo al commercio o al business vogliamo fare i fighi è assolutamente bacata ok bacata bacata ma non in senso cattivo ciao roberto massai come stai oggi parliamo di mindset parliamo di sogni parliamo di ambizioni e la mia domanda di oggi è chi ha rubato i sogni e giardinieri italiani è una domanda piuttosto profonda sulla quale mi sono logorato parecchio ma insomma se ascoltate il video poi c'è anche la risposta quindi in italia la mentalità l'approccio al commercio è veramente devastante che è totalmente in contrapposizione a quello che viene definito l'american dream che il sogno americano o la prima frase con la quale ho iniziato il post di questa diretta tempo regge un po aspettando che arrivino gli altri che sono ancora in giardino inizia questo post con se puoi sognarlo puoi farlo allora questa è una frase famosissima che in tanti attribuiscono a walt disney e quello dei patti di divertimento quello dei film per bambini dell'intrattinimento ovviamente per giovani quello di topolino ok se puoi sognarlo puoi farlo l'attribuiscono a walt disney anche se in realtà questa frase è una frase degli anni 80 che e pare sia stata scritta o detta da un collaboratore c'è a leonardo cococcella da un collaboratore di walt disney dal nome fitzgerald mi pare che si chiami però è chiaro che la cosa più romantica era quella di attribuirla a walt disney che caro giardiniere se fino ad oggi pensato a walt disney come diciamo un parco di divertimento l'ha associato a topolino devi sapere che walt disney e diciamo nell'ambiente per chi studia queste cose e rappresenta uno dei più grandi imprenditori di tutti i tempi e soprattutto uno che con il marketing ci ha sempre saputo fare se poi avete voglia andate su google cercate modello di business di walt disney vi viene fuori un disegno degli anni 70 anni 60 non lo so schizza ma scritto a penna ok in cui capite come costruito e come diciamo il mondo walt disney crea e ridistribuisce valori è un grafico complicatissimo che non si capisce niente per farvi capire diciamo la perfezione dei meccanismi rodati in ogni singola diciamo in ogni singolo ramo d'azienda di walt disney e io non sono mai stato ma insomma ho studiato e visto e sentito i racconti di chi è stato nei parchi divertimento di walt disney che sono delle vere e proprie macchine per emungere fino all'ultimo centesimo i soldi delle persone appunto che portano i figli che vanno a passare una giornata di divertimento quindi vuol di quando si parla di walt disney in relazione al business stiamo parlando come di una divinità che per questo motivo associare il seppo e se puoi sognarlo puoi farlo al a questa figura e non al suo diciamo al suo dipendente è molto più romantica come cosa ruota scusate stava ruotando il telefono dovete sapere che sulla mia sulla mia scritta sulla mia postazione di lavoro casalinga o due cartelli che sul primo cartello c'è scritto se puoi sognarlo puoi farlo sul secondo cartello c'è scritto un'altra cosa di cui parleremo domani quindi domani ci sarà un'altra diretta che è correlata a queste tematiche qua che sono delle dirette fatte apposta per cercare di scardinare quella che diciamo quello quella che la vostra mentalità o meglio la mentalità che vi limita ok perché dopo questo agosto diciamo di minor presenza sui social siccome appunto se puoi sognarlo puoi farlo il mio sogno è scardinare la testa rovinata dall'ambiente italiano dei giardinieri e fargli capire che i concetti di cui parlo sono importantissime sono fondamentali per la crescita non solo dell'attività di giardinaggio ma di qualsiasi altro tipo di attività in italia in francia in austria via dicendo in tutti i luoghi quindi tornando al se poi se poi sogna rispondere perché sto sono impegnatissimo in questa importantissima diretta quindi cari giardinieri qual è il problema in italia problema in italia che è noto notiamo anzi perché dovete sapere che è un team di varie persone quindi oltre a persone che collaborano con me per le strategie sono persone che collaborano con me per il copywriting quindi per scrivere i vari testi che trovate nei post nelle newsletter nelle nelle pagine quelle dove si vendono corsi e via dicendo ci sono i consulenti ok quindi siamo un team che con il tempo poco tempo perché non ho scelto la via del passaparola che io ho iniziato un anno fa nel marzo 2020 con una grande promessa entrando in gamba tesa nel mercato del giardinaggio italiano perché sono già sono stato giardiniere come voi e sono un tuttora un giardiniere che con un altro però approccio il tema da un altro punto di vista ecco perché c'è una mia mente grazie agli studi e vari corsi che ho fatto è aperta che non ho una visione limitata con i paraocchi come ce l'ha anche qualcuno di voi che sta guardando ora o che lo guarderà successivamente e lo dico diciamo senza voler offendere nessuno che lo dico per il vostro bene avendo la mente un po più aperta ho detto come posso sfruttare le mie nozioni di giardinaggio rimpacchettando le e proponendo le in maniera differente e anzi unica sul mercato italiano che quindi pensate a che vantaggio competitivo possa avere visto che sono unico quasi unico c'è con la scuola agraria di monza fa qualcosa di web marketing per i giardinieri c'è qualcuno che ci sta provando insinuandosi diciamo in maniera maldestra in alcuni gruppi di giardinaggio ma sono l'unico che l'unico esperto italiano di marketing appositamente per le attività di giardinaggio che si focalizza sulla crescita delle aziende di giardinaggio e ci sono tanti riscontri sul web quindi non dico cazzate ma vi informate andate sul canale youtube e vedete testimonianze di persone che stanno letteralmente sbancando quindi se puoi sognarlo puoi farlo quindi qual è il problema che quando uno sogna qualcosa che ci sono diversi tipi di sognatori ok c'è il sognatore quello con la testa fra le nuvole che cammina così e sogna e pensa non si sa che ma c'è anche il sognatore con i piedi per terra che è il sognatore con i piedi per terra quando ha un sogno ok mettiamo supponiamo visto che vi piacciono i motori supponiamo che vi piacerebbe che sognate che che in questo momento tutti quelli che guardano e lo guarderanno state sognando di comprare di avere una macchina sportiva ok quelli con i piedi per terra dicono ok mi piacerebbe sogno di avere una macchina sportiva sono una persona realista non ho i soldi in questo momento trasformo quello che il mio sogno in ambizione ok quindi l'ambizione diciamo è sotto il sogno è un qualcosa di più tangibile è un qualcosa che diciamo è più semplice che poi diventi realtà quando uno è ambizioso che fa se ne frega di tutto se ne frega di quello che gli dicono gli amici se ne frega di quello che dicono in famiglia se ne frega di quello quelli che sono le standard del suo settore se ne sbatte dei suoi impegni che è inizia a mettere in moto dei processi in moto dei processi che mettono diciamo permetteranno ok quindi si iniziano a trovare delle strade che permetteranno di realizzare quella che è l'ambizione ok quindi sono ambizioso sono un sognatore sogno una macchina sportiva ma i piedi per terra non sono il sognatore che tutti i giorni sogna e poi non fa niente metto in moto l'ambizione mettete un po di like per favore anche cuori ok anzi questa è una diretta dove tutti dovreste mettere cuori perché vi sto spiegando un qualcosa che vi cambierà la vita che oggi 3 settembre 2021 con questa diretta vi cambierà la vita questa diretta vi cambio con questa diretta vi cambierò la vita e questa diretta vi cambierà la vita ok quindi metto in moto l'ambizione l'ambizione da lecce il treno l'ambizione mette in moto tutta una serie di processi che in qualche modo vi fanno diventare una specie di super uomo ok voglio la macchina sportiva l'ambizione il sogno ambizione macchina sportiva cosa devo fare devo guadagnare di più ce la posso fare che cosa sto facendo attualmente faccio il giardiniere ok ce la posso fare con il giardinaggio potrebbe essere come posso fare per farcela nel giardinaggio devo iniziare in qualche modo a trovare strade alternative perché evidentemente se il momento attuale non me la posso permettere che vuol dire che non ho non ho diciamo non ho percorso non ho non ho intrapreso ok la giusta direzione e l'ambizioso non sente fatica ok l'ambizioso deve in ogni modo raggiungere quella che la sua ambizione che è partita dal sogno ok ciao francesco califano metti like mettete like mi raccomando anzi direi quasi di condividerla questa diretta francesco petruio califano condividetela perché così la vedono altri giardinieri e vi ripeto che se cresce il settore del giardinaggio cresce anche la clientela cresce da un punto di vista della preparazione anche la clientela questo modo andiamo a tagliar fuori tutti quelli che non sono molto competenti quindi nell'attuale momento in cui pochissime persone approfittano studiano nei concetti che io divulgo quotidianamente per ora è un bene che più giardinieri possibili sappiano ok poi arriverà un punto dove dovrete tenervi stretta queste informazioni perché magari nella vostra città nella vostra zona di competenza inizieranno a saperle troppe persone e quindi poi aumenterà la competizione al momento potete condividere quindi condividete questa diretta per cortesia quindi il problema quindi caro giardiniere quale cazzo è il problema il problema è che in italia cioè non sognate non sogni tu non sei nemmeno nella condizione di sognare e non parlo della macchina sportiva tu non sei nemmeno ancora non sei nella condizione di sognare anche la possibilità di diventare la migliore azienda della tua zona questo significa che una delle problematiche che riscontro in questo settore ma in genere anche poi tutto il settore artigiano ripeto un po è dovuto alla mentalità italiana che non c'è l'ambizione di fare che io guadagno il mio non muoio di fame non muoio di fame e quindi significa che sto a posto così quindi di quello che dicono gli altri di quello che dice gli agricolt che cazzo me ne frega a me tanto stasera un piatto con le uova sbattute ce l'ho un tetto sopra la testa ce l'ho ma quasi nessuno dice stasera non voglio mangiare a casa per l'ennesima volta ma voglio andare in un ristorante due stelle michelin non voglio una casa normale ma voglio una casa con un grande giardino e la piscina non voglio la mia fiat panda ma voglio comprarmi una macchina perché sono un appassionato di motori mi voglio comprare una bella macchina voglio viaggiare in tutto il mondo agosto dopo che ho creato la mia azienda che è tutti i meccanismi e processi io agosto parto e faccio ogni anno il giro del mondo ok per fare queste cose occorre avere più soldi di quelli che mediamente la maggior parte di voi a disposizione è però il problema che se non c'è l'ambizione di voler fare queste cose se c'è l'abitudine che ha ad accontentarsi del minimo possibile indispensabile tutto questo non può avvenire mai invece in america c'è il sogno americano in america c'è una poi qualcuno dirà è ma in america livello di tassazione burocrazia è tutto più semplice sì che gli stati uniti sono un paese diciamo che è che va a favore dell'imprenditoria l'italia purtroppo sappiamo benissimo che un paese che va contro l'imprenditoria no cioè tu sei imprenditore che a ti devo bastonare in ogni modo ti devo mettere i bastoni tra le ruote l'imprenditore sempre il solito ladro ok e quindi l'imprenditoria è sfavorita ma se mettessimo ci mettessimo sullo stesso piano quindi con le stesse condizioni burocratiche di approccio dello stato e tutto quello che porta negli stati uniti ad essere a rendere più facile la vita di un imprenditore la mentalità sarebbe quella che fa la differenza la mentalità marcia ok la mentalità limitata italiana e la mentalità del sogno americano ok perché quindi giardini ricapitoliamo prima di arrivare alla soluzione finale e a quello che vi cambierà la vita quindi ora mettetevi lì alzate le antenne prendete carta e penna perché io vi sto dando la soluzione a tutti i vostri mali ok questa questa diretta vi ho detto vi cambierà la vita quindi in america ricapitoliamo in italia non i giardinieri gli artigiani ma la maggior parte delle persone non sognano ok non sognano di poter fare qualcosa di eclatante non sognano di fare qualcosa superiore alla media ok è questa carenza di sogni questa mancanza che di questa fase del 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 sonno che perché il sogno il sogno ma c'è anche a chi sogna occhi aperti ok quindi parliamo il sogno è diciamo come un grande obiettivo enorme che potrebbe sembrare quasi irraggiungibile la mancanza di questi sogni si trasformano in mancanza proprio di ambizione perché tanto questa è la nostra vita e ora vi dico di chi è la colpa la colpa è della mentalità diffusa dei retaggi culturali dei paradigmi errati delle false credenze che ci sono stati consegnati ok dati diciamo in eredità dai nostri genitori fondamentalmente che a loro volta li hanno ereditati dai loro genitori che da sempre da generazione e generazioni hanno vissuto in italia che è un ambiente che va non solo da un punto di vista dello stato contro il commercio e contro l'imprenditoria ma va proprio contro lo sviluppo di una mentalità che porti all'ambizione di ottenere dei risultati di raggiungere degli obiettivi sopra la media ok vi dico una cosa la vostra il vostro il vostro carattere e quindi in questo caso parliamo di ambizione essere ambiziosi più o meno ambiziosi fa parte comunque di un lato del carattere è stato formato durante i vostri primi anni d'età ok quello che voi siete o per la maggior parte quello che voi siete deriva dalle vostre esperienze quando eravate più piccoli tra i 0 e 48 mesi in questa fase no noi nasciamo lasciamo non capiamo niente l'unica cosa che che cerchiamo e di mangiare di succhiare il latte dal seno della madre che abbiamo espletiamo i bisogni fisiologici dormiamo tutto il giorno che abbiamo delle funzionalità vitali base poi ma la mano iniziamo diciamo a diventare veramente iniziamo impariamo alla velocità della luce ok un bambino tra 0 mesi che un giorno e un anno apprende una quantità di cose incredibili che un anno un anno e mezzo due anni ora non sono esperto sono ancora figli quindi lo sperimenterò apprende una serie di cose impressionanti e lo fa la velocità della luce questo perché quando siamo piccoli siamo malleabili che siamo plasmabili ok e come veniamo modificati come veniamo istruiti veniamo istruiti dai nostri genitori dagli amici dei nostri genitori che frequentano di più dai nostri nonni e dall'ambiente ok quindi se noi siamo un ambiente di un certo tipo verremo fuori in un certo modo se siamo un ambiente di un altro tipo verremo fuori in un altro modo e la colpa fondamentalmente non è la colpa o il o il vantaggio diciamo o la fortuna non sono nostri ok ci arrivano in eredità ora il problema che questa eredità che si tramanda in italia di famiglia in famiglia è un'eredità in fausta ok è un'eredità a livello di credenze di quello che voi pensate di poter fare che pregiudica la vostra vita vi faccio un esempio da che mondo in mondo in italia si pensa che le persone che raggiungono risultati eclatanti sono persone in qualche modo fortunate che sono figli di papà sono persone che sono raccomandate che sono persone che magari hanno avuto un colpo di culo hanno vinto in qualche modo una lotteria che cioè proprio non nasciamo col concetto che una posizione superiore rispetto alla media possa essere in qualche modo guadagnata solo grazie alle nostre forze che tant'è vero che quello che ci viene inculcato sempre tra i 0 e 48 mesi e 60 mesi quindi tra i 0 e 4 anni 0 5 anni ci viene inculcato l'odio e l'invidia per chi è messo meglio di noi ok io posso avere tutti i difetti del mondo ma l'invidia veramente io non la provo quasi mai l'invidia anzi in alcuni casi provo un'invidia positiva ok un'invidia che dice guarda quello lì è messo di messo meglio di me voglio fare di tutto per arrivare al suo livello o anche sorpassarlo ok quindi in italia siamo messi così quindi che le persone benestanti le persone che sono diventate famose le persone che hanno che hanno vinto una gara sportiva che è sì ma quello geneticamente predisposto quindi ci sono tutta questa serie di cose che ci mettono nella condizione di odiare queste persone qua basta basta che voi vediate su facebook che sui social quando ci sono dei post dove si parla di qualcuno che è benestante ricco e via dicendo tutti quanti si sfogano dicendo tu sei un ladro e rubato sei un delinquente e via dicendo perché tornando al discorso di prima questo ci è stato inculcato da quando siamo piccoli ok chi sta bene chi raggiunge obiettivi è sempre fortunato e badate bene a questo passaggio il fatto di attribuire il successo degli altri non a un qualcosa che loro hanno ottenuto grazie alle loro capacità ma un qualcosa che deriva da fattori esterni per cui loro sono fortunati è una grande scusa per noi e allora che succede che automaticamente pensiamo noi a quel livello lì non ci possiamo arrivare perché noi siamo sfortunati perché noi non siamo nati ricchi perché noi non siamo non abbiamo mai vinto la lotteria perché noi geneticamente non abbiamo i muscoli di jacobs quindi non potremo mai arrivare a vincere i 100 metri a fare il record del mondo non è stato ma il record sicuramente italiano perché siamo diciamo andiamo da soli ok quello che facciamo ci andiamo ad autosabotare ok basandoci su quello che abbiamo appreso dal nostro ambiente che ci permette di andarci ad autoscusare ok cioè ad autorizzarci a non avere nemmeno l'ambizione perché tanto quelle posizioni là non sono una roba che fa per noi ok questo concetto questa è una delle principali problematiche questo concetto è rafforzato da un concetto praticamente parallelo che è quello che nella vita per essere una persona onesta devi sgobbare che devi tirar fuori il sudore della fronte quindi devi fare tutti i sacrifici del mondo e se anche guadagni diciamo il minimo dei soldi indispensabile per fare una vita almeno dignitosa tu sei una persona comunque encomiabile per carità tanto di cappello non sto dicendo il contrario ma una persona che che fa il minimo ok lo fa il minimo diciamo non ottiene grandi risultati ma si sacrifica tutto il giorno sta a spaccare le pietre sotto al sole di riccione di riccione ho diciamo sminuito un attimo abbassato i toni è una persona onesta ok invece chi guadagna tanto dall'altro lato non se l'è meritato ed è addirittura molto spesso percepita come una persona disonesta da questo deriva che i soldi sono una cosa sporca ok questi sono due paradigmi errati che vi hanno inculcato nella testa i vostri genitori i vostri nonni gli amici dei vostri genitori e che quotidianamente voi continuate a sentire nell'ambiente che frequentate ok i vostri colleghi no tutti no disperati guarda quello là cioè magari siete tra colleghi passa il giardiniere che ha più successo nella zona e di no ma quello là un figlio di puttana un bastardo non è vero che sa fare le cose bene c'è sempre brutte parole perché quello ha avuto più successo di voi e non dire cavolo quello là è un grande è stato in gamba voglio crescere anche io non solo per raggiungerlo ma perché lo voglio superare ho l'ambizione di superarlo e pensare no ma quello c'è l'azienda da tre generazioni quello no è fortunato perché è all'inizio della sua carriera ha avuto il colpo di culo di fare un bel lavoro dove incassato tanti soldi ha iniziato a comprare tante attrezzature tanti mezzi e quindi è stato fortunato e così noi ci diamo la bellissima scusa per dire noi siamo sfigati noi siamo medi non possiamo fare più di tanto questa mi devo mi devo rassegnare a questa vita qui quindi il problema cari giardinieri è questo i vostri sogni sono stati rubati dai vostri genitori e per questo non li voglio incolpare anche i miei non sono stati bravi bravi in questo ok soprattutto mio padre soprattutto mio padre quando parlava con noi mi ricordo una frase detta mia sorella che voleva fare la cantante in realtà fa un po la cantante però non di successo sì sì sei bravina però devi sapere che noi di fonzo siamo persone medie ok se tu dici questa cosa a un ragazzino una ragazzina cioè gli tagli le ali che non gli permetti mai di spiccare il volo cioè non li mettono gli permetti mai di mettere di sognare e di mettere in moto l'ambizione e quindi fare di tutto che fare quello che 99 persone su 100 non fanno per raggiungere quella che l'ambizione relativo all'obiettivo che abbiamo in mente di andarci a prendere ok quindi il concetto di fare il giusto cioè di essere così raggiungo la buona posizione il posto fisso questo è il posto fisso no cioè che cosa c'è nell'immaginario dell'italiano medio che il il concetto del posto fisso ok posto fisso una volta che lo prendo sto a posto c'è il mio stipendio faccio tutta la vita la stessa cosa i miei capi mi trattano male spesso ma almeno la sera torno a casa tranquillo per carità è sicuramente una cosa grelevole tornare la sera a casa tranquillo che io di natura sono fin troppo ambizioso e quindi mi metto in gioco tantissimo e molto spesso o diciamo o parecchie castagne sul fuoco poi col tempo ho imparato a gestirle e praticamente perché se voglio arrivare a fare certe cose mi devo mettere sempre in gioco e se mi metto sempre in gioco ho sempre molte castagne sul fuoco e quindi in qualche modo devi abituarti a far sì che gli eventi le preoccupazioni no ti scorrano addosso altrimenti poi non vivi più il posto fisso tu sei un uomo medio il sudore della fronte piano piano vedrai che se ti impegni la passione qualcosa succederà e non come dall'altro lato succede in america quando nasce un figlio e lo vediamo nei film gli si dice tu diventerai il presidente della repubblica tu diventerai il più grande imprenditore di tutti i tempi tu farai soldi tu cambierai il mondo ok cioè questi sono i due ambienti l'ambiente del sogno americano e l'ambiente dell'incubo italiano ok perché quello che ci prospetta quello che ci si prospetta da quando siamo piccoli è di vivere una vita media ok perché essere nella media spaccarsi la schiena fare una vita onesta ma andare con i sacrifici figli all'università è vista come una cosa bellissima è vista come diciamo l'emblema dell'onestà mentre chi vuole arrivare più in alto spesso chi parla di soldi chi parla di crescita aziendale è visto come qualcuno che vuole fare qualcosa di male vi dico faccio questo esempio l'altro giorno ho partecipato anzi ho scritto un post su un gruppo di giardinaggio dove parlavo di quello che deve fare un imprenditore del verde impariamo questo concetto che lo ritroveremo a seguire che imprenditore del verde un imprenditore del verde deve valutare la crescita deve sempre diciamo progettare deve pensare deve ambire deve far sì che la sua azienda cresca di anno su anno perché un'azienda stagnante è un'azienda che non ha senso ok e prospettavo in questo in questo post scrivevo che un'azienda di giardinaggio secondo me deve crescere almeno il 20 per cento ogni anno ok ho avuto diverse persone d'accordo e uno ha detto è ma se ma diciamo tacciandomi tipo di disonestà no di di voler dire qualcosa di brutto mi ha detto mi ha scritto è ma se se io cresco ogni anno del 20 per cento vado a levare i clienti agli altri cioè capite io sono convinto che non sia stupida questa persona perché se voi pensate all'affermazione l'affermazione è stupida ok però questa persona che l'ha fatta che tra l'altro scriveva pure insomma abbastanza bene non è una persona stupida ma l'affermazione è molto stupida cioè io ho un'azienda e quindi siccome ci sono gli altri che hanno altre aziende non posso ambire una crescita perché poi vado a levare il lavoro agli altri cioè le aziende le aziende sono in competizione e la competizione è anche una cosa positiva perché la competizione permette di alzare il livello cioè qui non siamo nel comunismo dell'urs ok qui non siamo nella germania dell'est non siamo a berlino del alber a berlino est se si dice c'era berlino est si berlino berlino nella germania che ci sono passati diversi decenni da quei fenomeni lì cioè non siamo in un regime comunista dove tutti devono star bene grazie al lavoro di poche persone oppure quelli che meritano non possono emergere perché la ricchezza deve essere ridistribuita se no che cosa la prima fare le aziende se non le apriamo per sognare una crescita per sognare di avere dieci dipendenti o per sognare anche non di avere dieci dipendenti perché a volte io quando parlo voi potete potete fraintendermi per me il vostro successo aziendale non è avere dieci dipendenti 20 dipendenti 30 dipendenti capiamoci bene potrebbe essere sia questa figura qui avere 50 dipendenti 100 dipendenti fare l'azienda più grande d'italia ma per me il vostro successo aziendale e professionale per voi giardinieri potrebbe essere neanche quello di essere il super giardiniere che tutti i giorni in giardino vestito bene che ti fa le potature solo della roba a terra e si fa pagare 50 euro l'ora giardiniere rispettato giardiniere che quando entri nella casa del tuo cliente il cliente ti accoglie come se fossi il miglior professionista il miglior specialista come quei dottori che curano il cancro questo è possibile con il marketing con le cose che insegno io con tutti i processi che servono a generare autorità autorevolezza quindi capiamoci bene per me il vostro successo professionale non è solamente fare i milioni di euro è una delle opzioni potrebbe essere anche quella di guadagnare molto bene stando tutti i giorni in giardino ma avendo del tempo libero non sottostando ai capricci dei clienti tirchi che non sottostando agli insulti o diciamo alla scarsa alla scarsa presa in considerazione da parte di tanti clienti perché parliamoci chiaro tanti clienti vi trattano come lo scopafoglie anche io sono stato trattato come uno scopafoglie anche io io quando ho iniziato avevo due linee due linee di acquisizione clienti il sito la prima cosa che ho comprato non ho comprato il decespugliatore io ho fatto un sito ho speso 2500 euro per fare un sito c'era claudio pento la prima cosa i primi soldi che ho sborsato sono stati soldi per un sito non per un decespugliatore still che cazzo ci facevo con decespugliatore still se non avevo i clienti che bastava un decespugliatore tanaka che usato usato per di più che non serviva sti cazzo me ne frega a me il soffiatore a me non mi serviva soffiatore l'ho comprato dopo tre mesi che avevo preso tanti clienti che mi hanno dato i soldi scopavo con le col a mano con la scopina di ferro quella per le foglie e con la scopa di saggina quella di paglia che poi ho comprato il soffiatore piccolo tanaka anche quello per 300 euro sembrava un phon più che un soffatore poi ho preso quello spalleggiato preso quelli spalleggiati quelli col motore triturbo della still che ti ti sparavano nello spazio ma non servivano prima cosa ci devo fare cioè quando tu parti o quando non sei nella condizione desiderata non è che compri gli attrezzi e migliora che è chiaro che devi avere attrezzi base chiaro che non sono pazzo qui stavo dicendo parlavo dell'ambizione quindi l'ambizione la vostra ambizione dovrebbe essere una delle due questioni di cui vi ho parlato che non trovo la strada ok scusatemi un errore cioè per me non è che dovete diventare tutti i ricchi imprenditori spietati dovete diventare delle persone che che sono autorità nel loro settore che esercitano autorevolezza che comunque guadagnano di più degli altri giardinieri e che soprattutto sono rispettate ecco il discorso quando ho iniziato avevo due linee quindi o dal sito oppure tramite dei condomini o amministratore di condominio che chi mi chi mi chiamava dal sito vedeva il fatto che era agronomo vedeva tutto scritto bene un bel sito e mi chiamava e io quando andavo a trovarlo per il sopralluogo mi rispettava che mi accoglieva bene mi accoglieva con soddisfazione quando invece andavo nei condomini magari arrivavo prendevo il nuovo condominio arrivavo nel condominio sapete che magari tanti di voi abitano in condominio non è che siete lì che sapete quale azienda viene se è stata cambiata chi lava le scale chi dipinge le porte che non li conoscete quindi come un pinco pallino come il classico giardiniere scopafoglie arrivavo nel condominio e come tale ero trattato cioè come un coglione cioè c'era uno dopo due secondi che arrivavano con la pianta taglia la bassa poi si facciava un altro sopra no con la pianta fammela metà poi quello sopra ancora no con la pianta lasciala alta magari ovviamente non potevi accontentare tutte e tre scendevano per sfogarsi dalle loro da da qualcosa no dalla loro vita magari di frustrazioni venivano e mi cazziavano si sfogavano e mi trattavano come l'ultima delle merde ok e questo succede pure a voi non lo dite cioè non lo negate come dicevo ieri potete potete non dirlo a me potete negarlo nei miei confronti ma non lo potete negare nei vostri confronti quindi quello che dico io chi vi ha rubato i sogni giardinieri chi ve li ha rubati questi cazzo di sogni i vostri genitori l'ambiente i vostri cazzo di colleghi con i quali parlate solo di cose brutte con i quali non discutete mai di dire io voglio fare questo voglio fare quest'altro voglio crescere perché non studiate che perché non comprate perché non avete studiato la progettazione perché non comprate corsi di progettazione perché non comprate libri di marketing perché non studiate i corsi di marketing è semplice perché voi che cazzo ve ne frega successo oggi per una lua ciao valentino non te l'ho visto eri nel sommerso scusate c'ho il 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 tunnel carpale che perciò cioè io ho capito perché noi parliamo con tanti giardinieri che poi no ma se a me non mi serve e ci credo perché voi vi accontentate di qui ai 1200 1500 euro ma anche 2000 euro che non sono un cazzo giardinieri se uno ha un'azienda di giardinaggio e fa il giardiniere perché giardiniere è un lavoro usurante io l'ho fatto in giardino per tre quattro anni non posso tenere in mano una cazzo di stecca che mi si addormentano le mani a distanza di 15 anni che ho smesso di farlo che ho tutto il collo bloccato i trapezzi bloccati sempre non mi si sbloccano dovrei 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 andare dovrei dovrei convivere dovrei comprarmi un massaggiatore personale per tutti i problemi che ho nella zona lombare e l'ho fatto per tre anni poi che lo dovete fare per 40 anni ma come cazzo fate con 2000 euro al mese che prendete ora dove come fate a mettervi da parte i soldi per per pagarvi le spese mediche se avete una pensione di 700 euro come fate quindi dovete avere l'ambizione di avere delle aziende che crescono di guadagnare di più perché non siete dei dipendenti statali vi fate male domani facciamo le corna chi ci va al lavoro chiudete il mio pizzaiolo che sta qui siamo passati prima non ha un'azienda organizzata agosto si è fatto male non so dove ha dovuto chiudere per 25 giorni l'attività che valentino russo dice ci segnala che in uno dei suoi condomini è successo un problema per una lue e valentino russo l'ha sfanculato dicendoli che fa i giardini a 1985 e non si deve permettere ok vedete ma non è facile non è facile in questa condizione non è facile quando lavorate con i condomini lo sapete che a me condomini non mi piacciono lo sapete anche che chi sta partendo chi magari già in un certo giro deve a un certo punto valutare di tagliare dei condomini per iniziare a fare dei lavori di realizzazione ok grande valentino russo e forza bmw è una cosa diciamo internos quindi giardinieri riguardatela questa diretta non so quanti da quanti minuti sono in diretta la volevo fare più corta perché so poi che so che poi voi vi annoiate a guardare i video ma questo è diciamo è la motivazione per la quale voi siete fermi allo stesso livello da una vita ok e vi sto accendendo degli allarmi non potete rimanere fermi così per tutta la vita è molto mo è troppo rischioso che è troppo rischioso perché lavoro surante perché la pensione è bassa e con quello che ci portiamo a casa molto probabilmente non riusciamo a metterci da parte i soldi per eventuali problematiche dopo quindi dovete ambire dovete sognare di fare le cose più in grande dovete trasformare questa cazzo di ambizione di questo sogno in ambizione e dovete fare quello che il 99 per cento coach tu non a noi non a noi mai grazie francesco califano dovete fare quello che il 90 95 99 per cento delle altre persone non è disposta a fare cioè spaccarsi il culo per raggiungere i propri sogni ok spaccarsi il culo per raggiungere i propri sogni sapendo che sapendo che quello che voi pensate che quello che voi pensate su ogni cosa che che i ricchi sono sporchi i soldi sono brutti se onesto solo se ti spacchi la schiena tutta quella quella puttanate mentali che voi avete nella vostra testa ve le hanno donate che come cattiva eredità i vostri genitori e vi dico una cosa importante molto forte che voi potete potete amare i vostri genitori ma non è detto che dobbiate stimarli che poi li potete volere bene è chiaro però non è detto che dobbiate stimarli non è detto che dobbiate seguirli anche se loro hanno 70 anni oramai del mondo odierno magari non ci hanno capito un cazzo quando erano giovani e non ci capiscono ancora più di più un cazzo ora che dovete come fate a a a migliorare dovete iniziare a isolarvi che dovete smettere di frequentare le vostre amicizie che la pensano come vi ho detto prima dovete ascoltare più video come questi dovete comprare libri di crescita personale dovete seguire anche altri video su youtube ci sono altri formatori che ovviamente gira e rigira i concetti sono questi i concetti di crescita personale di crescita aziendale sono questi qui ok qui dovete smettere di rimanere nell'ambiente in cui vi siete in cui siete cresciuti dovete allontanarvi dai vostri colleghi che ragionano sempre e solamente secondo gli standard di settore sapete chi è successo nel commercio sapete pensate a tutti i vostri amici giardinieri quanti colleghi giardinieri sfigati avete e quanti colleghi giardinieri al top avete fate un conto fate un conto vedrete che la maggior parte sono sfigati che si lamentano e forse ne avete uno o due un po sopra la media ok in ogni settore in ogni settore chi ha la meglio chi vince chi fa azioni rilevanti rispetto agli altri e colui che la pensa nella maniera opposta rispetto a tutti quelli gli altri rispetto a tutti gli altri ok se tutti i vostri colleghi dicono no ma devi comprare la steel perché taglia meglio deve avere la motocariola deve avere il biotrituratore voi dietro pensate che per essere in linea con gli standard di settore dovete avere tutte quelle attrezzature vuol dire che voi non dovete investire tutti i soldi nelle attrezzature ok se tutti gli altri dicono non serve un cazzo la formazione ma perché devo studiare progettazione prendo due piante le butto lì ci metto due sassolini no faccio quei disegnini che fate che quelli con la corteccia di pino e sassolini bianchi orridi è orridi orridi se prendete gardenia non vedete nessun giardino fatto in quel modo là e perché nessuno studio progettazione perché lo standard dell'industria italiana prevede che siccome tu hai passione non si sa per quale motivo avendo passione tu sai anche progettare giardini sai anche realizzare giardini belli e non è vero chi è che fa giardini belli pochissimi ok quelli che non seguono lo standard di settore quelli che dicono se io faccio il giardiniere devo imparare a progettare quelli che dicono se io faccio giardiniere un'impresa devo imparare a vendere fammi comprare i corsi dell'agricoce fammi fare le consulenze con l'agricoce non mi sto facendo pubblicità sto facendo un esempio ecco un po di pubblicità fammi fare il sito con l'agricoce sto vedendo che diversi si sono fatti fare il sito con l'agricoce stanno sbancando addirittura tanti sui social dicono no non è vero non è vero sta dicendo falsità valentino russo nella sua intervista sta dicendo cazzate alex monteleone sta dicendo cazzate cioè siamo al punto di negare l'evidenza pur di non mettersi in gioco pur di non attivare i nostri sogni pur di non attivare le nostre ambizioni e fare qualcosa che sia superiore alla media perché essere superiore alla media non è cosa per tutti ce l'hanno insegnato i nostri genitori dobbiamo fare una vita umile piena di sacrifici spaccandoci la schiena il sudore della fronte e tutte queste cazzo di puttanate che voi dovete cancellare riguardate questa diretta cinque volte che vi cambierà la vita alla vostra evoluzione